Buonasera a tutti Anche il tuo sorriso è molto televisivo stasera? Per forza ormai diciamo che la tensione si è stemperata quindi c'è anche più spazio per poter sorridere di più E alla mia destra c'è il direttore di Sport Puglia dell'Ulec, Flavio De Marco Ciao Flavio Buonasera a tutti Ti vedo anche rilassato Sì sì rilassato, un effetto un po' strano anche se devo dirti l'ho vissuta soprattutto la fase degli ultimi secondi, gli ultimi minuti Come se fosse un po' una visione zemaniana, mi ero bloccato perché durante tutto il campionato diciamo sono partiti in proberi Mi sono partite anche un po' di parole grosse, preoccupazioni, ansie, urla anche in sala stampa Però poi l'ultima partita non so per quale strano fenomeno mi sono zemanizzato, mi sono bloccato Ancora mi devo sbloccare in realtà forse Quindi rimani bloccato ancora per... c'è un'estate per sbloccarti, c'è un'estate per sbloccarti Sarà un'estate sorridente finalmente dopo tante estati pesanti Senti Filippo, di questa grande festa, vedere lo stadio con oltre 20.000 persone Voi che fate il giro d'onore, i festeggiamenti che duravano fino a tarda notte in città Qual è stato il momento che veramente ti ha emozionato di più? Ma al momento del fischio finale penso che sia stata una liberazione per tutti Ho fatto uno scatto che non ho mai fatto in vita mia Ma già gli ultimi minuti, già quando la palla comunque era rimasta di là sul calcio d'angolo Ti dico, gli occhi già erano un po' gonfi Vedevo Matteo Legittimo, Ciccio, comunque erano tutti con gli occhi un pochino gonfi Quindi forse lì ho iniziato a dire ci siamo Sì, è stato emozionante Ma è stato emozionante a parte il fischio finale, è stato emozionante tutto È stato emozionante il contesto, lo stadio Vederlo sempre pieno, più pieno del solito Che già di solito è sempre più pieno del solito Vedere tutta la gente, un intero popolo festeggiare con noi è stata una cosa bellissima Flavio, la partita è stata vinta con ampio merito Si poteva vincere anche con un punteggio molto molto più largo C'è stato un momento di domenica che ricordi con paura? Hai avuto un momento di dubbio? No, in realtà ho visto che sono stati anche abbastanza compassati nella manovra Quelli della Paganese, quindi non riuscivano a reagire più di tanto alle iniziative del Lecce Inoltre comunque potevano avere un passivo molto molto più pesante Anche di tre o quattro marcature in più È stato solo un caso che non ci sia stato un risultato più rotondo senza dubbio Filippo si torna in Serie B dopo sei tentativi Al sesto tentativo tu hai partecipato ad alcuni di questi tentativi Qual è stata la chiave vincente di quest'anno rispetto ai tentativi precedenti Dove c'eri anche tu che sono andati male? Io penso che rispetto agli altri anni c'è stata forse una maggiore compattezza ancora Proprio come gruppo, come squadra, come ambiente in generale Quest'anno, nonostante pure gli anni scorsi Penso che abbiamo sempre fatto comunque tanti punti Però ci è mancato forse quell'ultimo passetto E quest'anno invece siamo stati bravi soprattutto a non disunirci Nell'unico momento un po' di difficoltà della stagione E penso che abbiamo strameritato questa promozione Perché comunque nel corso del campionato abbiamo avuto solo tre sconfitte Abbiamo sempre avuto continuità anche i 22 risultati utili consecutivi Non li fai per caso Quindi penso che comunque ce la siamo strameritata Hai parlato del momento difficile della stagione Che è iniziato quando c'è stata la sconfitta interna con la Juve Stabia Eravate reduci dal pareggio per 0-0 contro il Leonzio E poi quella sconfitta A cui seguito poi dopo due settimane lo 0-0 col Matera La sconfitta di Cosenza e la sconfitta di Caserta E quindi c'è stato questo momento in cui è stato messo tutto in forza E poi è scattata in voi la voglia di reagire E diciamolo pure il Trapani mi ha dato una mano però Sì no sicuramente però se vedi questo campionato in questo girone a turno Sia noi sia il Catani sia il Trapani abbiamo avuto dei momenti dove eravamo un po' meno brillanti Ma penso che sia una cosa anche che ci può anche stare Sicuramente a noi magari ha fatto un po' più scalpore perché era già verso la fine del campionato Comunque che arrivavi da tanti risultati utili consecutivi Io penso che no dopo la partita Le uniche due partite che si è stati veramente sotto tono Penso che sia stato il secondo tempo con l'Andria e la partita di Caserta Perché comunque anche la partita col Siracusa si avevamo pareggiato Ma anche lì avevamo avuto sempre il pallino Abbiamo sempre giocato abbiamo avuto una miriade di occasioni Poi dopo siamo stati bravi lì a non mollare Perché lì una squadra fra virgolette normale fa fatica a reagire Invece siamo stati bravi, siamo andati a Reggio Calabria Abbiamo giocato magari meno bene, siamo difesi, abbiamo vinto E da lì poi dopo già con la giornata il Catania pareggiò in casa Il Trapani perse a Francavilla E noi arrivevamo ad avere il destino nelle mani degli altri A riaverlo nelle mani nostre, quindi quello ci ha fatto capire che comunque nel calcio Basta talmente poco che passi dalle stelle alle stelle Dalle stelle alle stelle Senti Flavio, il passaggio focale Abbiamo detto che il Trapani ha fatto dei favori Ha un po' restituito quello che tolse al primo anno Quando recuperò 12 punti Liberani era stato anche in un certo momento di questo finale di campionato Un po' contestato Qual è stata la chiave che ha risolto tutto? Sono le grazie ricevute oppure ci sono meriti forti del gruppo, della società, della squadra, dell'allenatore? Come vedi nel complesso la situazione? Sì, così come è già evidenziato, come è stato sviscerato più volte anche da altri analisti In questi giorni di post-promozione Una partita fondamentale è stata quella di Reggio Calabria Dove Perucchini ha avuto un ruolo fondamentale E appunto ha salvato il risultato più volte Inutile che ce lo nascondiamo Tanto ormai siamo a bocce ferme È stato determinante, soprattutto in quella partita Anche tu, lo ricordo, l'hai evidenziato in più testate giornalistiche Quindi è giusto E io sono contento questa sera che la nostra redazione ha Questa sera quest'ospite Che è uno degli artefici principali di questa promozione Certo, ci sono partite in cui si è dovuto immolare Magari partite come quelle della Paganese Dove è stato impegnato un po' meno Lo spettatore Però diciamo, insomma, noi auspichiamo Che il suo futuro con il Lecce possa durare a lungo Allora, io qui ho un giornale Adesso dove dice Il cui titolo recita Il Lecce è pronto a ripartire dai big della promozione E tra questi big della promozione Ovviamente ci sei tu Però devo ricordare che Peruchini è di proprietà del Bologna Che è qui in prestito Ha già esaurito le possibilità di prestito Quindi teoricamente ritorna al Bologna a fine giugno E allora hai pensato già all'anno prossimo O ancora questa domanda è prematura? No, non ci ho ancora pensato Nel senso Ora cerchiamo anche Comunque presto Perché siamo ancora al 3 maggio E' giusto che adesso lasciamo spazio Ai festeggiamenti meritati E pensiamo anche comunque Che adesso abbiamo un'altra partita domenica Più le due di Supercoppa Che comunque vanno affrontate Col piglio giusto Perché comunque lo sai Come si fa presto anche a fare brutte figure Noi non vogliamo assolutamente fare brutte figure Una volta che poi sarà finito tutto A fine mese A bocce ferme Vedremo, valuteremo bene tutto il da farsi Ancora giustamente non ci hai pensato A proposito di prossimo impegno Monopoli Sarà una passerella quella di Monopoli Fortunatamente non conta più la classifica Oggi come vi siete allenati? Come sta il gruppo? Cosa vi dite in questi giorni? Parlate di vacanze? Parlate? No, c'è la Supercoppa Lo dicevi prima Di cosa parlate? No, ma la squadra si allena sempre bene Anzi Magari in questo periodo Puoi anche Con la testa Sei anche più libero Quindi Magari provi anche delle giocate Forzate Che sono belle Sono belle da vedere in allenamento E sicuramente ci puoi mettere anche quel pizzico di leggerezza In più negli allenamenti Ma sempre stando comunque sul pezzo Sempre stando comunque Concentrati sulle partite che comunque dovrei affrontare Flavio Tu Queste partite di Supercoppa Partiamo da Monopoli Che è la più vicina Anche se ormai non serve più Se non per la statistica Ci andrai a Monopoli? Seguirai? Oppure la vedrai in televisione? A Monopoli Se non vado io Comunque come sai Abbiamo sempre un inviato Quindi Se non dovesse andare personalmente Comunque c'è sempre un collega Che segue come in tutto l'anno Sia per il Corriere Sanettino Sia per l'Ulecce.it Come sai Lo seguiremo certamente sempre da vicino Così come anche se ci sono gare della Supercoppa E quant'altro Però lasciami fare un auspicio Un tentativo di auspicio per Ucchini Perché noi abbiamo avuto Tu lo ricorderai Lui forse non lo sa Perché anche per motivi anagrafici Abbiamo avuto un portiere Che era Fabrizio Lorieri Che ci ha fatto fare il doppio salto di categoria Ci ha fatto fare la Serie C Che fu un anno memorabile Di una rinascita leccese fondamentale E dalla Serie B poi alla Serie A Quindi insomma E spero che lui possa entrare Così come Fabrizio Lorieri Entrato nel cuore dei tifosi giallorossi E nella storia del Lecce Con la stessa modalità Perché per tanti versi Bruno Il campionato che noi stiamo vivendo Qualcuno magari Sobbalza dalla sedia Sentendo queste mie parole Assomiglia per tanti versi A quel campionato di quella rinascita giallorossa Che fu marchiata da Palmieri Francioso Lorieri E altri E altri grandi giocatori Che erano giocatori Così come Perucchini Di altra categoria E si diceva anche allora Sono giocatori di altra categoria E si diceva anche in Serie B Infatti poi siamo finiti in Serie A Dove ci siamo rimasti A dare lezioni di calcio Al Milan Alla Juve E ad altre squadre Hai sentito che augurio ti ha fatto Di diventare come Lorieri Cioè uno dei portieri più amati Della storia del Lecce Allora ti ringrazio veramente tanto È sempre gratificante È bello sentirsi dire queste parole Però ti dico anche Che per arrivare a quei livelli di Polenta Ne devo mangiare ancora molta Guarda io mi ricollego a quello che ha detto Flavio Per dirti quello che ha detto invece a me Di Piazza al termine della partita Contro la Paganese Quando gli ho chiesto Di Piazza tu hai portato l'anno scorso il Foggia in B Quest'anno hai portato in B il Lecce E adesso che fai? Te ne vai? E lui mi ha detto no Ma senza pensarci un attimo Ha detto no Rimango perché voglio fare qui il doppio salto Un po' ricollegandomi a quello che ha detto Flavio No ma guarda Senza fare appelli volipindarici C'è chiaro Bisogna stare tranquilli Bisogna stare tranquilli Bisogna stare tranquilli Che per certi versi Tante volte Forse è più paradossalmente difficile Vincere il girone C di Lega Pro Che vincere la Serie B Paradossalmente Ma Se tu vedi Frosinone Carpi Benevento Squadre che comunque hanno fatto Il doppio salto Però ovviamente Qua lo dico E qua mi fermo È giusto La storia che lo dice questo Però Noi adesso Innanzitutto Come ti ho detto prima Chiudiamo bene l'anno Poi dopo la società Sicuramente allestirà una rosa Molto competitiva Quello ne sono certo Perché Conosco bene La proprietà Conosco bene il direttore So Quello che Che possono fare Che possono dare A questa squadra So che allestiranno comunque una squadra Molto competitiva Sicuramente sarà così Flavio Velocemente Perché il discorso sarebbe molto lungo La città E il territorio Ritornano in Serie B Non si accettava questa C Perché non era stata Subita sul campo Ed era quello Il problema principale Era un problema proprio Di adattamento mentale Ad una situazione Che non si accettava Quindi il territorio Ritorna in Serie B Ma ritorna in Serie B Anzi va Sbarca in Serie B Una società di amici Uno dei pochi esempi In Italia Senza mecenate Almeno al momento Si parla di un Ampliamento delle quote Di De Picciotto Come sapete Sicuramente lo sapete Amici all'ascolto Ma al momento Questa società Non ha il mecenate Ed è riuscita A fare questo grande miracolo Sì Sulla società Noi l'abbiamo Detto sempre Insomma È giusto anche Ricordarsi Ma lo dico Davvero Con tranquillità D'animo I periodi in cui Scrivevamo Annotavamo Nei nostri articoli Le difficoltà Che vedevamo Nella vecchia gestione Dei tesoro Lo dicevamo L'abbiamo scritto Tante volte Che c'era qualcosa Che non rappresentava Poi quella pienezza Del progetto Che poi è stato Con il presidente Saverio Sticchi Damiani E Tundo Eccetera eccetera Ecco Con quella stessa Tranquillità d'animo Ti dico Così come Altro facciamo Che non raccontare I fatti Che questa è una società Che può fare tanto E che soprattutto Può captare Quei partner Validi Validi Perché tu dici Il mecenate Ma il mecenate Molto spesso Può essere Alla Zamparini Che esautora Anche un ambiente Io sono convinto Che il presidente Saverio Sticchi Damiani Insieme a tutto Lo staff dirigenziale Possa capire Chi ha le capacità Per poter investire A Lecce E nel Salento Ecco Flavio dice La politica Societaria Della partecipazione Filippo È stato questo Il grande segreto Della gestione Sticchi Damiani E dei suoi amici La politica Della partecipazione Intesa come Gestione della società Non accentratrice Dove tutti hanno diritto Diciamo Di partecipare Sia fisicamente Abbiamo visto E sia anche Idealmente È stata questa Una filosofia Vincente Anche Liberani Si comporta così Con voi Molto democratico No Sicuramente La società Ha fatto un gran lavoro Ha fatto un gran lavoro Perché comunque Si sa In questi anni Gli sforzi Che comunque Hanno dovuto affrontare Sia prima Anche con Volevo ricordare E ringraziare Anche comunque Ricotundo E si sa Si sa Quello che Ha fatto questa società Quello che ha speso Quello che I sacrifici Che tutti i soci Hanno fatto Per portare Questa squadra In alto Però per quanto riguarda Il mister Sì Anche il mister È Una persona Molto È una gran persona Una gran persona Prima di essere Un grande allenatore E ci tiene tanto Ci tiene tanto Come noi Ci ha sempre Fatto stare bene E ci ha sempre Fatto stare bene Penso che lui È riuscito anche A trovare La La chiave giusta Con questo gruppo Siamo proprio In conclusione Le ultime due domande La parata più difficile Di tutto il campionato L'hai fatta Su Bianchimano A Reggio No No Forse Ti posso dire Quella Quella Matera Forse Sul colpo di testa Però Forse È quella più difficile Che è passata Inosservata Purtroppo Per il risultato Penso che c'è stata La punizione Di Lodi A Catania All'andata Quella sotto la barriera Dal limite dell'area Poi lì Avevamo perso 3-0 Quindi è passata Forse Giustamente Anche Inosservata Però Penso che Quella era difficile Perché comunque Era una punizione Dal limite dell'area Sotto la barriera Quella Penso è stata La più difficile Adesso Contro Livorno E contro Padova Come la vedi Questo triangolare Bello Bello tosso Due squadre forti Due squadre comunque Che come noi Hanno fatto qualcosa Di veramente importante Sono contento Di poter Di poter Riabbracciare Due amici Dumbia E Contessa Sarà bello Sarà da divertirsi Sarà da divertirsi Saranno delle belle partite Quindi Sono Sono contento Magari si vince Lo scudetto E la Serie C Flavio Allora Chiricò è arrivato A Lecce Però non si sa Se resta O se va via Proprio chiudiamo No su questo Non commento Nel senso Non ce lo vedo Chiricò Nell'ambiente E in questo progetto Fammi fare soltanto Proprio al volo In chiusura Di ringraziamenti Ai nostri partner Carnivori Innanzitutto Che ci ospita stasera Ma anche Al Corriere Salentino Che insomma Siamo riusciti Nella fase Proprio finale Della gara A dare Ai telespettatori Un'ampia visione Li ringrazio Ad oggi quasi Da titolare E ti fai Questa grande esperienza Questa nuova esperienza Con il Lecce Che non si sa Sicuramente parte Per salvarsi E sarebbe già tanto E poi Tutto il resto Sarà guadagnato Ti piacerebbe? Assolutamente La Serie B A Lecce Vale Vale tanto Vale tanto Soprattutto Dopo Dopo Quattro anni Passati Passati Comunque Lega Pro Essere arrivati Finalmente In Serie B E tanta roba Ha detto di sì Avete sentito Ha detto di sì Grazie da Bruno Conte Salutiamo Perrucchini Saluto ancora Flavio Continua il nostro percorso Con Sport Puglia Ci vediamo alla prossima Grazie a Carnivori Alla prossima Alla prossima